SIA NOLODATI 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 quindi cristiano. Aveva ragione il Vescovo di Tagaste nel dire che era impossibile che il figlio di tante lacrime andasse perduto. Sant'Agostino lasciò la convivente e non pensò più al matrimonio. Ormai voleva servire il Signore. Le preghiere della madre Santa Monica erano andate al di là di ogni erosea speranza. Durante il viaggio di ritorno verso l'Africa sostando ad Ostia Santa Monica si sentì venir meno. Ormai la sua vita era al termine e disse al figlio. Figlio quanto a me non trovo ormai più alcuna attrattiva per questa vita. Non so che cosa io stia fare ancora qua giù e perché mi trovi qui. Questo mondo non è più oggetto di desideri per me. C'era un solo motivo per cui desideravo rimanere ancora un poco in questa vita, vederti cristiano cattolico prima di morire. Dio mi ha esaudita oltre ogni mia aspettativa. Mi ha concesso di vederti al suo servizio e affrancato dalle aspirazioni di felicità terrene. Che sto a fare qui? Santa Monica morì ad Ostia dicendo così ai congiunti radunati attorno a lei. Vi prego che dovunque vi troverete vi ricordiate di me all'altare del Signore. Da Santa Monica impariamo la potenza della preghiera incessante. Santa Monica pregò per il figlio Agostino non per pochi giorni ma ogni giorno per trent'anni, per una vita intera. Dove non arrivano le parole giungono le preghiere e le lacrime. Sant'Agostino durante l'agonia della madre così le disse, tu mi hai generato due volte. Parole stupende che esprimono una profonda verità. I figli devono essere generati, per così dire, due volte. La prima volta nel dolore del parto, la seconda volta con un dolore ancora più grande e duraturo per la loro conversione. Ecco la missione delle sante mamme, non rassegnarsi e offrire tutto al Signore per la rigenerazione spirituale dei figli che vivono lontani da Dio. È impossibile che il figlio di tante lacrime vada perduto. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera. La preghiera di tutte le mamme desolate che implorano la conversione dei loro figli. O Dio, che donasti alle lacrime di Santa Monica la conversione di suo figlio Agostino, per modo che da vostro nemico che era, egli divenne uno dei luminari della vostra chiesa. Guardate le mie lacrime ed esaudite le preghiere di una madre desolata. Il dolore di vedervi oltraggiato dal figlio che mi deste per farne un santo è la prova più terribile a cui possa andar soggetta in questa vita. Mio Dio, se ciò è causa dei miei peccati, punitemi in un'altra maniera, ma fate che mio figlio cessi di oltraggiarvi. De, perdonate a lui e perdonate a me, o Signore, affinché ambedue godiamo la bella sorte di lodarvi e benedirvi in eterno. Amen. Santa Monica prega per noi. Santa Monica prega per noi.